Non è così, nel senso che, ad esempio, non voglio sviare sul tema, ci mancherebbe altro, però sul cosiddetto Sultano Erdogan, forse qualche Stato dell'Unione Europea avrebbe dovuto scrivere lo stesso delle lettere quando ci fu il caso un anno e mezzo fa della popolazione kurda, quando ci sono degli evidenti diritti che sono compressi, quando c'è un predominio o una sorta di imperialismo espansivo da parte della Turchia nei confronti dei nostri mari, ecco, allora trattiamo tutti nello stesso modo. Ho come l'impressione che invece quando si tratta di questo caso, è come bastano le lettere e due misure. Invece va tutto bene. Peraltro, volevo sommessamente ricordare... Prego, prego della vedova. No, no, sul giudizio su Erdogan, il giudizio su Erdogan, sono concorde su Erdogan, Erdogan per esempio, perché è una faccia, una razza, se posso usare questa espressione, è uscito dalla convenzione di Istanbul, una convenzione firmata a Istanbul contro la violenza contro le donne. Erdogan è uscito, però Erdogan, la Turchia, non è un paese dell'Unione Europea, non c'è 30 anni fa. Sì, no, vorrei ricordare che però, e Draghi pure l'ha ripetuto, che contiamo molto sulla Turchia per la questione migranti, cioè adesso, tanto per capirci, non farà parte dell'Unione Europea, chissà quando e se ne farà parte, però noi puntiamo molte fish sulla Turchia, non solo noi.